Allora, iniziamo dalla situazione, dal commento sulla situazione di cui mi avete chiesto in diversi, cioè lo stabilimento, il cosiddetto stabilimento siciliani. Il commissario prefettizio che diciamo amministra il comune di Palo del Colle in questo momento ha chiarito come diversi casi, come è ovvio che sia, sono residenti a Palo del Colle. Ad oggi bitontini positivi me ne risulta uno solo, peraltro si sta curando in casa perché la situazione non presenta dei sintomi gravi. Mi risulta uno perché mi hanno contattato direttamente, loro la famiglia. La situazione in generale a bitonto risulta da ultima comunicazione ufficiale, 5 positivi, nessun ricoverato e i 5 quindi positivi sono a casa, si stanno curando a casa perché evidentemente i sintomi non sono molto gravi. Sulla situazione siciliani si è interessato direttamente il Presidente della Regione Puglia e il Direttore dell'ASA di Bari che stanno continuando a procedere, a verificare con tamponi anche i nostri concittadini che lavorano lì, il 25, il 26 aprile e il primo maggio tutte le attività commerciali saranno chiuse. Quindi significa, tranne le edicole e le farmacie e le parafarmacie che sono previste per legge, non ci sono limiti per i servizi a domicilio. Quindi anche questa è un'altra domanda che mi è stata posta, quindi in fascia serale le pizzerie, le rosticcerie, le pasticcerie potranno svolgere un servizio esclusivamente a domicilio. Questo significa che però le serrande dei locali devono essere necessariamente chiuse. Alla fase cosiddetta 2, cioè l'apertura delle attività commerciali, questo lo deciderà a fine mese, come dicevo, il Governo. Non è ancora purtroppo giunto il momento di poter dire apriamo tutto senza alcun problema perché purtroppo non è così, perché finché il numero dei contagi aumenta e continua e invece non arriva al benedetto zero, purtroppo temo che il Governo ci chiederà ancora di sacrificarci. Sui fitti abbiamo registrato tutte le richieste che ci sono arrivate tramite IBAM, dalla settimana prossima la banca comincerà ad emettere i bonifici a seguito della determina di liquidazione. Per quanto riguarda l'Inpsi, i contributi per i secondi e terzi figli, vi invito tramite i CAF e i patronati a mandare una mail al Comune di Bitonto, al funzionario dottoressa Santoruvo per chiedere di appuntamenti specifici per attivare le convenzioni, questo più che altro, più che i cittadini e i CAF e i patronati che assistono i cittadini stessi. Per quanto riguarda il cimitero, altra domanda molto gettonata, ne parleremo a seguito della decisione di Conte, per ora tutto chiuso fino al 4 maggio, cimitero e parchi. La Conf Commercio, la Conf Esercenti con i fondi del distretto urbano del commercio sta realizzando un'altra app in cui sta caricando tutte le attività di commerciali della città di Bitonto, almeno quelle legate partendo dal settore abbigliamento.